5, 4, 3, 2, 1, via! Vediamo la nostra delta rimessa a posto, ultima speciale in Australia, lunga 12 km Siamo a 9 secondi dal primo e abbiamo 12 secondi di vantaggio sul secondo Quindi in concentrazione cerchiamo di arrivare più in alto possibile Ahia, vanno i fari supplementari qua Quindi piccolo danno passa per l'aver, quindi concentrazione massima 6 sinistra, 80, centro piatto sul grande salto, 50 5 destra, lunga, stringe 3, su crinale In 3 sinistra, lunga, stretto, 50 Centro, su grande salto, in 6 sinistra In 5 destra, non tagliare In 5 sinistra, lunga, stringe Stringe 3, su crinale 4 destra, lunga, su crinale In 5 sinistra, 50 5 destra, in non tagliare, 3 sinistra Per stare al centro, su crinale Attenzione, 32, destra, stringe su crinale, stretto In 3 sinistra No In 3 destra Non male, non abbiamo rotto i fari, non male Non fa niente aver perso un po' di tempo È importante andare a rompere i fari Sarà un buon dramma con una prova così lunga di notte In 4 destra, e vai dritto all'incrocio In 4 sinistra, su crinale In 4 destra In 4 sinistra, lunga, su crinale, stringe 2 In 4 destra, lunga, stringe In 5 sinistra 5 destra, in 3 sinistra, stringe su crinale 30 6 destra, apre su salto Forse, attenzione, rallenta 30 6 destra, su crinale, lungo In 1 sinistra 30 Crinale E 2 destra, stringe Dai, cazzo In 2 sinistra In 2 destra, su crinale, lungo 50 Non visto 2 destra, stringe 30 5 destra 30 4 sinistra, lunga, su crinale Stringe 3, stretta In 6 destra 50, su crinale 5 destra, lunga In 3 sinistra Stringe su crinale In 2 destra, stringe In 2 sinistra, su crinale Stringe 50 6 sinistra 30 6 destra 5 sinistra 80 5 destra, lunga, apre su crinale 30 Attenzione, stretta 4 destra, stringe In 4 sinistra 50 50 Crinale In 4 sinistra Apre su crinale 30 5 destra 5 sinistra 5 destra Stringe 30 3 destra In 4 sinistra Sul salto Stringe 2 Apre su crinale Lunga 30 Prova il coglione 5 sinistra 6 sinistra Su crinale Apre 30 4 destra Lunga Stringe su crinale Attenzione 30 4 destra Lunga Chiude stretta 30 Centro piatto Su crinale 50 50 4 destra 6 destra Piatto Piatto su crinale 120 Crinale 50 Tieni la sinistra Su crinale In 4 sinistra Lunga 30 Piatto Crinale 60 5 sinistra 30 3 destra Lunga Apre su crinale 30 5 sinistra Su crinale Molto lunga Stringe 2 Lunga In 4 destra Lunga Stringe 3 Apre molto lunga Dopo incrocio 6 destra Apre su crinale 50 Attenzione 3 destra Su crinale Stringe In 2 sinistra Apre 30 5 destra Su lungo Su crinale In 3 sinistra Lunga Stringe 100 Centro piatto Su crinale 80 5 destra Lunga Apre su crinale 30 5 sinistra Lunga Stringe In 3 destra Stringe In 3 sinistra In 4 destra Apre 30 2 destra Stringe Forse taglia Su crinale In 4 destra Su crinale 4 destra In 5 sinistra Apre su crinale 80 Centro piatto Su crinale 100 Piatto destra Su grande salto 5 destra 4 sinistra Stringe 30 4 sinistra Su crinale In 4 destra In 4 destra Lunga Su crinale In 4 sinistra Apre su crinale In 5 destra Sul salto In 4 sinistra Lunga Asfalto 50 In 4 sinistra In 4 sinistra In 4 sinistra 6 destra 6 destra In 5 sinistra Lunga Apre 30 4 sinistra Su crinale Lunga Stringe Attenzione Non tagliare 3 su conte In 5 sinistra In 2 destra Lunga Stringe Su arrivo 80 Ben fatto 10 secondi Vediamo Quando sono arrivati tutti Un po' come siamo andati ad arrivare Vediamo un insano un po' Ce lo meritiamo Non mi fido ancora Fatemi vedere proprio l'ultima Certo gara pazzesca Siamo riusciti Perché Nielsen Addirittura terzo Di prova Siamo riusciti a dare 13 secondi Al nostro rivale Vediamo la classifica finale Ottimo 3 secondi su Nielsen Grandissimo Addirittura Tsukino Bellissimo nome Per soli 4 decimi È riuscito ad arrivare terzo Grandissimo 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 Vaffanculo Quindi amici Che dire Gara pazzesca Ci siamo buttati a capofitti In questa prova speciale Lunga E siamo riusciti A fare una grande vittoria Quindi nel mondiale Comunque abbiamo Due vittorie E un secondo posto Mentre Nielsen Due secondi E una vittoria Quindi è praticamente attaccata a noi Paggiorna la classifica Quindi siamo totalmente In lotto per il titolo E nell'ultima gara In Spagna Saliamo Andi a Nielsen Siamo campioni Per la mia volta In questo gioco Vi saluto E vi appuntamento Alla prossima tappa Alla prossima tappa